Come state amici e amici, ben ritrovati, buon sabato, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di mettere un like, di commentare numerosi e di iscrivervi qui. Oggi giornata di campionato, significativa, anche al vertice perché giocano la Juventus e l'Inter, vi aggiorneremo, magari faremo un video post partita dopo la gara dell'Inter, ma intanto una news importante di mercato perché c'è un ritorno di fiamma importante tra il Milan e l'USM O'R, soprattutto il giocatore lancia segnali costanti a Vialdo Rossi e rifiuta al momento ogni proposta. Ne è arrivata una importante dal Betis che gli offre un contratto di 5 anni ma lui al momento dà precedenza soltanto al Milan. Giocatore nato il 30 giugno 1998, farà 25 anni proprio nel giorno in cui scadrà il suo contratto con il Lione, tant'è che dal 1 febbraio, tra 3 settimane circa, lui può firmare gratis per un'altra squadra. Nei suoi sogni è il Milan. C'è anche la Roma, c'è stato un approccio dell'Inter ma lui in questo momento dà precedenza appunto al Milan. Il Milan giocatore eclettico che ha una buona dote realizzativa, quest'anno un gol in 7 partite, lo scorso anno 6 gole e 4 assist in Ligan, l'anno prima 7 gole e 3 assist, nel 18-19 ha fatto 7 gole e 8 assist quando era ancora più giovane. In totale 41 gol e 35 assist in 222 partite tra campionato, Champions Cup e con il Lione. Il Ligan ha 30 gole e 23 assist ad appena 24 anni, insomma sono numeri interessanti. Non chiede la Luna, rappresentato dalla Sterla, l'agenzia con cui il Milan ha ottimi rapporti. A questo punto dipende molto dal Milan che però in questo momento ha altre priorità, cioè i rinnovi di Leao e di Ben Nasser, soprattutto il rinnovo di Leao che tra qualche giorno potrebbe avvenire, sicuramente ci sarà l'incontro nelle prossime ore. Oguar dunque, possibile rinforzo del Milan, l'uvole del Milan, la palla è nei piedi di Maldini e di Massaro. Voi che cosa fareste? Gol o la butteresse in calcio d'angolo? Commentate qui sotto, lasciate un like e iscrivetevi in questa zona sul logo AL se non lo avete ancora fatto. Di nuovo buon sabato, buon weekend, a prestissimo per altri aggiornamenti.